Siamo con Gianmario Mercorelli, consigliere comunale di Tolentino del Movimento 5 Stelle, movimento che per martedì 26 novembre organizza un convegno su una materia piuttosto delicata che riguarda i rifiuti. È una conferenza che parla della miglior gestione possibile dei rifiuti, rapportata chiaramente a quella che era la nostra realtà, cioè quella del Cosmari. Abbiamo invitato Alessio Ciacci, personaggio ambiente 2012, consigliere ex assessore all'ambiente del Comune di Capannori, poi dimesso sì peraltro perché probabilmente è troppo avanti con i tempi anche per Capannori. L'abbiamo già invitato circa un anno e mezzo fa, forse anticipando fin troppi tempi rispetto alle necessità pubbliche o popolari di capire certe determinati dinamiche. Porteremo avanti questa conferenza spiegando proprio punto a punto ai cittadini innanzitutto come raggiungere quella che sarebbe la chiave di volta un po' per risolvere la questione delle spese ingentissime della gestione dell'immondizia, ossia il raggiungere, il come raggiungere la tariffa puntuale. La tariffa puntuale valuta per peso quanta immondizia produci. Abbiamo scelto Alessio Ciacci sia perché personaggio ambiente ma più che altro perché è una persona che essendo stato assessore e avendo messo in piedi in maniera precisa e puntuale nel suo Comune, quindi confrontandosi con tutti i problemi tecnici di chi amministra un Comune, questo percorso di rifiuti zero, è la persona più indicata proprio per proporci un punto di vista che non sia solamente ideale. Noi vorremmo proporre un percorso assolutamente possibile, già realizzato, già esistente. Peraltro proporremo un atto di indirizzo, un atto di indirizzo che cerchiamo di proporre in Comune per riuscire, per il prossimo Consiglio Comunale del 28, per riuscire a impegnare il Comune di Torrentino a dare questa direzione, quantomeno per quel piccolo che possiamo fare, un sindaco su 57, ma il Cosmari è sul nostro territorio. Quindi il sindaco di Torrentino, se vorrà votarlo, si impegnerà a che il Cosmari diventi migliori anche proprio le sue filosofie di funzionamento, ossia si impegni ad esempio a non produrre CSS, quindi a non produrre un carburante per i cementifici prevalentemente. Chiudo con una battuta velocissima, Alessio Ciacci, rimane sempre il vostro candidato ideale per la guida del Cosmari? Ciacci ha dimostrato in un ambito amministrativo, quindi non è che ripetiscono, fai il filosofo, ha fatto l'assessore, è riuscito ad ottenere certi risultati, è sicuramente la persona più adeguata per gestire un consorzio. Grazie.